14 appuntamenti in poco più di un mese per rafforzare la battaglia contro l'inquinamento ambientale, l'Associazione Salute e Vita, che da anni è in prima linea nel Salernitano per la tutela e la salvaguardia del territorio, ha presentato il programma del Festival dei Diritti Sociali, un evento organizzato in collaborazione con altre realtà associative e che prevede una serie di incontri per sensibilizzare la popolazione attraverso videolezioni, campagne contro l'inquinamento, contest fotografici, gadget e testimonianze. Il Festival prenderà il via mercoledì, quando verrà lanciata una campagna di pubblicità progresso. Uscirà un cartello sull'inquinamento atmosferico per sensibilizzare non solo i cittadini, che purtroppo sono sensibilizzati perché vivono sulla loro pelle, ma per sensibilizzare le istituzioni. Diremo l'inquinamento atmosferico causa il cancro e contribuisce alla diffusione del Covid-19. Fermatelo, fermatelo è un appello alle istituzioni, a chi ha il potere di fermare questo inquinamento. La battaglia sull'inquinamento, sulla vita, sulla salute, sull'ambiente non si ferma, ma andrà avanti, anche e soprattutto durante un'emergenza sanitaria come questa pandemia, perché l'abbiamo detto, lo ribadiamo anche attraverso questa campagna, che il Covid è più violento e si diffonde di più dove esistono le polveri sottili, dove l'ambiente è inquinato.